Più di 30 ragazzi provenienti dalla diocesi di Fano Fossombrone Caglipergola stanno vivendo questa settimana il campo missionario diocesano in programma dal 16 al 22 luglio che ha il compito di far vivere un'esperienza ecclesiale di fede e di condivisione con l'altro e con l'obiettivo che il tutto si trasformi in uno stile di vita. Come ogni anno sono 5 le parrocchie ospitanti, lunedì Pesaro, martedì Vallato di Fano, mercoledì Apecchio, giovedì Montefelcino Sterpeti e venerdì Lucrezia di Cartoceno. Nella giornata di domenica 16 i ragazzi insieme ai nuovi direttori di questa edizione, Sebastiano Lucarelli, Aurora Secchiaroli, agli animatori e ai missionari combognani hanno avuto modo di conoscersi e di capire come si suddivide una giornata del campo. Ogni giorno i ragazzi saranno accolti da una parrocchia diversa, la giornata inizia con la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione da donare alla carità sparrocchiale, al pomeriggio poi si ha la formazione dei missionari combognani e la giornata poi si conclude la sera con la festa appunto nella parrocchia che ospita i ragazzi. E invece qual è il tema di questa edizione? Il tema del campo di quest'anno è C'è fretta nell'aria e C'è fretta nell'aria è una delle frasi dell'inno della giornata mondiale della gioventù del 2023 che si svolgerà a Lisbona. Infatti il tema di quest'anno si ispira appunto alla giornata mondiale della gioventù. Durante questo campo saremo accompagnati da un missionari combognani, ci seguirà nello specifico padre Raul. E ogni giorno poi ascolteremo testimonianze diverse come ad esempio al Vallato, a San Paolo, abbiamo ascoltato la testimonianza di Simone, un seminarista che ha trascorso due anni nelle Filippine. A dare il proprio saluto al prelato di Fano il direttore del centro missionario diocesano Marco Gasparini che ha augurato un buon cammino ai ragazzi insieme al nuovo vescovo Andrea Andreozzi che varrà nuovamente a trovare i giovani nelle parrocchie. Vi aspettiamo giovedì 20 a Montefelcino e venerdì 21 a Lucrezia per la serata organizzata dai ragazzi presso la parrocchia all'ore 21. Potete seguire i nostri ragazzi tutti i giorni tramite le nostre pagine social digitando il CMD Fano su Facebook, su Instagram o anche su Telegram.